Alle venti c'è marchette sbagliate È giunto il momento di presentare il nostro ospite di questa sera che conosce il mondo aziendale come le sue tasche Lui è un business coach, è consulente presso la start-up Minds for Future e si impegna ogni giorno per fornire preziosi consigli alle aziende e vivere al meglio il lavoro in generale in azienda Mirko Ponti, ciao Mirko Ponti Ciao, bravo Mirko Ciao Federico, ciao a tutti, ciao a tutti gli amici di Marchette Sbagliate Chi è Mirko Ponti? È un business e team coaching che arriva da un'esperienza aziendale di quasi 20 anni in ambito finance Mi sono approcciato alla gestione delle persone, soprattutto in quella che è la formazione manageriale Poi mi ha portato appunto allo sviluppo, a dedicarmi al business e team coaching e anche al benessere in azienda Per ora l'hai un attimo accantonata Per portare avanti il mio progetto, il progetto che è di Minds for Future che è una start-up innovativa a vocazione sociale Vuol dire che le start-up, sappiamo tutti cosa sono, sono dei progetti aziendali che vogliono portare una innovazione molto forte in gergo tecnico si dice disruptive nel senso che deve portare questo cambiamento molto forte nel mercato Noi vogliamo portare un cambiamento e parallelamente a questo cambiamento disruptive, molto forte anche un impatto sociale, quindi vogliamo che ci sia un beneficio per la società quindi che non sia solamente tecnologia, che non sia solamente un servizio alle imprese servizio alle imprese, solo business e tutto quanto ma che porti un beneficio anche alle persone e alle società nel senso che le persone devono essere all'interno delle organizzazioni devono essere messe nella condizione di esprimere il loro potenziale essere contente, essere soprattutto libere di fiorire come dice la mia socia e fiorendo portano dei benefici per tutte, per l'azienda, per la società e per tutti noi non dobbiamo dimenticare che le aziende, le organizzazioni sono fatte da persone e quindi le persone sono alla base, sono il centro della strategia e comunque delle attività dell'azienda Definiamo il business coaching Allora il business coach cerca di aiutarti nella performance cerca appunto di migliorare la performance e soprattutto di migliorare il tuo rapporto con la performance e con la squadra, col team o anche con te stesso per cercare appunto di darti quell'aiuto che riesca a ridurre quelle frizioni che non ti permettono di raggiungere determinati obiettivi dove i team sono dei gruppi di lavoro delle parti di organizzazione, delle funzioni di organizzazione devi capire le dinamiche dei gruppi devi capire come ogni singolo manager o referente o componente del team interagisce col gruppo e non è assolutamente facile Quale motivazione sincera daresti per me per investire in un'operazione di team coaching? Le persone stanno diventando veramente quella chiave sempre più fondamentale per distinguersi dalla concorrenza ti faccio un esempio customer service o quelle attività più operative che normalmente in azienda non si vuole su cui non si vuole investire che non si vuole internalizzare esatto però sono fondamentali perché sempre più hanno il contatto col cliente conoscono il cliente sanno tutto del cliente sanno i suoi desideri a volte sanno di tutto sanno anche di più sanno magari più loro di quello che vuole il cliente che lui stesso e quindi queste risorse devono diventare sempre più una risorsa aziendale quindi sviluppare un asset vero e proprio esatto non solo il top management per le cose più strategiche per carità ci vuole anche quello però ci vuole che tutte le persone all'interno dell'azienda diano il loro contributo quindi il famoso engagement certo quel coinvolgimento proprio vero il coinvolgimento quel qualcosa che aiuti le aziende a essere veramente innovative veramente collaborative e soprattutto a generare quella conoscenza trasformativa che è fondamentale al giorno d'oggi e aiutano anche a riconoscere invece quelle risorse uso termini sbagliati irrecuperabili cioè quelle che invece proprio sono distanti dai valori e dalle logiche aziendali e quindi anche a fare un minimo anche di selezione interna delle persone su cui vale investire o meno più che selezione ci aiutano a capire quelle persone che non si sentono ingaggiate in azienda e a quelle persone che non sono ingaggiate in azienda bisogna anche per loro intervenire bisogna intervenire capire se è una situazione voluta o non lo è voluta se non è voluta bisogna intervenire bisogna aiutarle per rendere sempre più ingaggiate all'interno dell'azienda le aziende sono delle organizzazioni sociali nel senso che sono veramente fatte da persone quindi l'imprenditore deve agire all'interno dell'azienda ma dal punto di vista anche delle persone quindi deve cercare penso che sia un suo piccolo dovere cercare anche quelle persone che non sono coinvolte ma che vorrebbero esserle coinvolte in buona fede cercare di coinvolgerle sempre più se poi dopo un percorso del genere non riesci ad inquadrare non riesci però l'imprenditore ha fatto il suo ha fatto il suo ha fatto il suo aiutarle soprattutto a capire quali sono veramente le risorse chiave le risorse su cui investire e magari anche quelle su cui non investire quando entra una nuova risorsa nel gruppo una parte importante è l'integrazione anche sociale e non solo lavorativa ti racconti un po' di questo aspetto tecnico? l'ingresso di nuove persone è fondamentale in azienda è veramente basilare ed è una delle cose più difficili soprattutto se pensiamo che in molte aziende non c'è una sola generazione ma ce ne possono anche essere 3-4 quindi non è facile inserire una risorsa soprattutto un millennial una persona molto giovane all'interno di gruppi magari già consolidati ma anche con generazioni differenti dalla sua quindi bisogna anche innanzitutto costruire un percorso un percorso di sviluppo di inserimento nel gruppo che lo porti piano piano a crescere e a capire le logiche e soprattutto di inserirlo nella cultura aziendale che è una cosa veramente importante perché ogni azienda ha la sua cultura certo ha i suoi valori ha la sua mission e spesso queste cose non sono chiare neanche in azienda ma vengono portate avanti dalle persone dalle persone che giorno dopo giorno si fanno anche carico di questa cultura aziendale e soprattutto bisogna piano piano come dicevamo avvicinare le nuove generazioni ma comunque i nuovi ingressi a questa cultura ecco penso che questo sia il passo più difficile da fare soprattutto quando si inserisce una risorsa come diceva anche la nostra amica un'altra cosa importante è anche misurare questo inserimento ovvero cercare di capire e di monitorare come sta andando la risorsa ma nel suo interesse capire se sta andando bene come si sta sviluppando se c'è un percorso stabilito come il gruppo la recepisce e come sta andando questo inserimento all'interno del gruppo perché sì è vero il team building quindi le cene gli inserimenti gli aperitivi vanno bene però appunto come nella vita di tutti i giorni questa persona come la vive come si inserisce come il gruppo come interagisce come interagisce soprattutto a livello di gruppo c'è il PNRR la comunità europea insomma ha stanziato tanti soldi ci si sta applicando tanto per favorire l'imprenditoria che tu sappia ci sono dinamiche che possono interessare il tuo settore e che possono magari interessare aziende che possano essere interessate al tuo settore previste al PNRR si può accedere a tanti contributi come dicevi tu sia nazionali che regionali che aiutano appunto l'investimento nel capitale umano nell'assetto umano e in queste forme anche di formazione cofinanziata magari in parte finanziata dall'azienda e magari in parte finanziata anche da un ente pubblico che può essere la regione o può essere un fondo o comunque la regione o addirittura anche lo Stato diciamo che Invitaglia che è un po' diciamo il braccio che sta il braccio finanziario del nostro governo sta dando molti contributi sta erogando anche molto dobbiamo essere ottimisti e realisti nel senso che stanno veramente erogando tanti soldi tanti contributi e mi fa molto piacere che tanti di questi contributi vengano erogati alle donne le donne che si vogliono mettere in proprio che vogliono aprire una start up ci sono molti paesi che appunto ripartono veramente dalle donne perché le donne sanno fare finanza sanno come le nostre madri gestivano il budget familiare è vero sono molto molto brave in questo spirito imprenditoriale quali consigli daresti a un professionista o comunque un imprenditore o un manager che desidera migliorare le proprie doti di leadership imparare ad ascoltare quindi ascoltare le persone soprattutto i loro bisogni e cercare di mettersi nei panni degli altri perché un po' nella nostra società tendiamo a non ascoltare le persone e a concentrarci su noi stessi quindi l'ascolto secondo me sta diventando veramente quel qualcosa in più che ci ci permette di capire le persone di interagire con loro e soprattutto di migliorare la nostra comunicazione perché sono importanti questi programmi di business coaching di coaching di formazione perché le aziende le persone vanno avanti un po' attraverso le routine e questi percorsi ci permettono un attimino di interrompere la nostra routine e di fermarci e di concentrarci sul presente sul qui e ora e soprattutto di ragionare sull'adesso senza tra virgolette essere troppo presi dal passato e dal futuro ecco ma concentrarsi sul presente e concentrandosi sul presente su queste attività ci permette di sviluppare il futuro perché il futuro non è un qualcosa di è un qualcosa che costruiamo adesso mi accingo a prendere quello strumento che ci permetterà di giocare al nostro brand o brindi questo gioco funziona in questo modo chi perde beve o chi risponde male beve lì su quello schermo bianco vedremo degli indizi ne abbiamo a disposizione fino a tre quindi ci dobbiamo prenotare e dobbiamo dire il nome del brand primo indizio tre due uno ne è stata creata una che si trasforma in Optimus Prime hot wheels sbagliato una parte del suo chip è stata inserita in una sonda spaziale terzo indizio i suoi noti quattro simboli simboli geometrici hanno tutti un significato ci provo tesla bevo con te possiamo andare avanti frank sinatra lo amava così tanto che ci si fece seppellire non si assicuri del perché ma porta addosso il numero 7 il fondatore si chiamava jasper io mi prenoto secondo me è il jack daniels l'ho indovinato dal numero 7 lore andiamo la terza che fravi ci ha detto dobbiamo essere incalzanti il fondatore si fece ispirare da una multa nessuno ci crederebbe ma è più anziano di google il suo catalogo occupa più di 1.047.000 gigabyte di spazio è brutto e bevo amazon la risposta era netflix va bene io intanto bevo e ringrazio colgo l'occasione per ringraziarmi ringrazio tutti voi grazie a flavione grazie a lore loredano ciao marchete sbagliate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti